buongiorno a tutti e ben ritrovati oggi siamo nel cuore del salento rapporto cesario e lecce proponiamo in vendita una splendida masseria storica dell'ottocento completamente ristrutturata e incastonata in un paesaggio naturale di circa tre ettari arricchito da un secolare oliveto questa proprietà unica ideale per chi desidera vivere il fascino della tradizione pugliese abbinato al design contemporaneo ha mantenuto tutti i dettagli architettonici originali soffitti castella volte a botta cammini è un autentico forno in pietra elementi preziosi come le antiche mangiatoie oggi convertite in eleganti armadi aggiungono un tocco di autenticità gli arredi su misura in stile minimalista e sofisticato valorizzano la semplicità e l'eleganza di ogni ambiente la masseria si estende su una superficie di 300 metri quadri e accoglie una spaziosa cucina e una zona living impreziosita da materiali di alta qualità che impressionano per stile e funzionalità un ampio salone dove le antiche mangiatoie sono state trasformate in elementi decorativi conduce alla zona notte qui troviamo cinque camere matrimoniali di cui tre con bagno privato tutte con accesso al giardino interno offrendo un collegamento armonioso con la natura salendo al piano superiore una delle camere vanta grandi vetrate che illuminano la stanza e si apre su un suggestivo terrazzo i materiali scelti per la ristrutturazione tra cui resina e quarzo il legno e la tradizionale pietra leccese donano un carattere distintivo all'interno creando un ambiente accogliente e ricercato gli spazi versatili e adattabili rendono questa masseria perfetta sia come residenza privata sia come struttura ricettiva di lusso completano la proprietà un'ampia terrazza panoramica e un affascinante parco privato che permettono di vivere appieno la bellezza circostante se si è alla ricerca di un vero gioiello pugliese immerso nella natura questa masseria è un'opportunità imperdibile contattaci per maggiori informazioni o per prenotare una visita ciao alla prossima